buongiorno e benvenuti a tutti in questa nuova puntata di radio mafiopoli una puntata fatta un po di corsa e dettata un po dall'urgenza per una serie di motivi noi siamo sempre stati vicini e siamo vicini alla vicina di nino di matteo qualche giorno fa il campidoglio alla consegna del premio borsellino di cui sono molto onorato e colgo l'occasione di ringraziare anche tutti quelli che mi hanno portato i loro complimenti che mi seguono e che mi hanno scritto ho deciso di dedicare quel premio a nino di matteo perché noi siamo un paese che rischia di premiare i borsellino e di non riconoscere i nuovi borsellino nino di matteo sicuramente allo stato attuale è un uomo nell'occhio del ciclone chiarisco questo perché non accetto nessuna strumentalizzazione del discorso che vado a fare oggi però esce una nuova notizia anzi oggi esce una vecchia notizia e la solita notizia di totò riina che dal carcere di opera ha deciso di eliminare fisicamente di matteo per questo processo sicuramente tortuoso sia dal punto di vista presidenziale ma non solo anche dal punto di vista giuridico e soprattutto dal punto di vista storico di questo paese ed è il famoso processo sulla trattativa e quindi su quel periodo in cui stato e mafia si sono messi a decidere quant'era il do ut des da darsi o da restituirsi per consacrare una pax che dovrebbe essere potrebbe essere alle basi della seconda repubblica beh su questo punto leggo oggi un articolo degli amici del fatto quotidiano e tutti voi sapete quanto io sia legato al fatto quotidiano e leggo questa nuova uscita secondo cui totò riina avrebbe per l'ennesima volta parlato delle minacce al pm di matteo dal carcere di opera soprattutto l'avrebbe fatto in modo più serio rispetto alle altre e avrebbe detto virgolettato è tutto pronto e lo faremo in modo eclatante ecco io vorrei mi piacerebbe in modo ironico in modo estrionico così come ci ha insegnato peppino così come ci hanno insegnato peppino impastato come ci hanno insegnato tutti quelli che hanno cercato di confrontarsi con la mafia e con l'antimafia con la pancia molle vorrei cercare di capire che cosa c'è dietro l'uscita regolare così perfettamente cadenzata di intercettazioni di un boss che ha taciuto per così tanti anni mi spiego c'è un faldone in cui sono scritte tutte le intercettazioni di totò riina e tutti i suoi discorsi degli ultimi mesi questo è credibile sono disposto a crederci e qualcuno giornalisticamente ha deciso di farle uscire con cadenze pluriquotidiane per cercare di arricchire le vendite oppure c'è una voce una gola profonda che di giorno in giorno passa dalle informazioni ci posso credere e allora io come cittadino non antimafioso ma semplicemente cittadino vorrei che una volta per tutte decidessimo di sapere chi è la gola profonda perché è inaccettabile in questo paese sapere a pezzi una verità così grave e così allarmante in cui poi qualcuno ci finisce a pezzi per davvero oppure c'è una domanda che è la domanda che mi pongo che vi pongo e che mi piacerebbe che entrasse un po' nel dibattito di oggi è molto semplice ho avuto modo di studiare di conoscere di incontrare totò riina ebbene e allora la mia domanda è quanti di noi sono disposti a credere che totò riina possa utilizzare il termine eclatante il che non significa che totò riina non abbia minacciato di matteo però io non sono disposto a credere al fatto che totò riina abbia raggiunto un livello di loquacità e soprattutto di eratoria così alto ecco c'è qualcosa di strano dietro tutto questo discorso c'è il ministro dell'interno Alfano che improvvisamente si risveglia sul valore della trattativa e sul valore della criminalità organizzata lui che è stato nello stesso partito di Schifani e di Nicola Cosentino per non arrivare direttamente a Silvio Berlusconi e a ciò che il processo su Vittorio Mangano e il processo dell'Utri ci hanno raccontato su di lui sogna un paese che si pone le domande giuste e che incappa ogni tanto nelle risposte sbagliate che decide di non cedere a tutto quello che sembra troppo facile da comprendere e che parte da una massima perché poi questa puntata di Radio Mafiopoli è un punto di domanda non è una risposta che forse ha ragione Mark Twain quando dice che non bisogna avere paura di ciò che non si conosce ma bisogna avere paura di ciò che crediamo vero e invece non lo è buona giornata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti